Salve ragazzi, in questo video acquisterò il pacchetto di benvenuto che con valore di 5 euro mi darà 10 bustine e una leggendaria di classe. Ovviamente le bustine saranno quelle normali. Già comunque a 5 euro è vantaggiosissimo. Qui dà un po' la leggendaria. Tirion, è una delle migliori leggendari di classe che ci sono al momento, ma purtroppo io già ce l'ho, speravo in qualcosa che non avessi. Però comunque sono 400 polveri e non ci dispiace. Spero ovviamente a 10 bustine possa uscire altre leggendari, quindi speriamo in bene. Epica, doppia epica, rara. Urlatroce, ne ho una sola, quindi per calcare di collezione faccio la seconda. Ferocia, il continuo moolok ne ho già, quindi sono già 100 dust in più. Rara Vabbè, niente di che. Un'altra epica e una rara. Io spero di essere un martelfato. Altro moolok idiota che già ho. Un'altra epica e una pirosfera. Qua che questo è solo il mio secondo doppione, non è il dust. Però comunque in pirosfera di solito ne basta una. Qui c'è solo una rara. Una sola, una sola, una sola rara. Anche questa già scendeva in solito modo. Le rare ho quasi tutte, se non tutte. Mancano le epiche e leggendarie. Abbiamo una rara, due rare, due rare. Ok. Quella padina mi mancava il doppione. Quindi a me, quindi questa è andata buona. Rara. Questa pure ne ho, ne ho già due. Dai. Qualcosa di importante. Una rara. Interior esplosivo. Questa non so se ne avevo già due. Però mi sono massi solo due bustine. Finora sono scelte solo tre carte, diciamo, che utili. Le due epiche, proprio da doppioni, quindi... Mi sono scelte nelle aree di collezione, perché se ne giocano uno perdi, quella è lì. E la rara è paladino, quella che è due attacco di uno, che invece... Quella mi serviva. Qui esce la gallina arrabbiata, che è la peggio rara del mondo. Rara. Ecco qui, eh vabbè, abbiamo finito. Allora, a valore di prezzo non ci si può lamentare. 10 bustine a 5 euro, più una leggendaria. È un'offerta galattica. Vediamo un po' quante... Polveri mi alzo. 830 polveri. Una epica, una leggendaria. 8 rare e 34 cuboli. Ciao. Qu'è il nostro app靡ale? Qu'è il nostro app靡ale? Grazie a tutti.